Antonio del prete 32 anni fratta minore buon pomeriggio Antonio che cosa ti ha spinto a diventare un cantante la passione è nata per la musica diciamo mi è sempre piaciuto cantare e ascoltare un determinato tipo di canzoni sin da bambino e quindi ho portato avanti ecco questa passione che poi mi ha spinto ad essere qui oggi quali sono secondo te i lati positivi dell'essere un cantante guarda non lo so ad oggi se c'è davvero qualche lato positivo in tutto ciò beh oltre diciamo se diventi un cantante famoso oltre alla popolarità e tutto il resto non credo ce ne siano altri ecco io faccio semplicemente quello che quello che mi piace ecco cantare e riuscire a trasmettere magari qualcosa questo è quello a cui punto e che mi piace fare grazie Antonio prego